Questa sera, eccola qua, la dottoressa Arianna Masotti. Grazie di essere venuta qui al nostro studio, a London War Radio. Grazie a te. E parleremo, lei è una psicologa, poi parleremo anche una psicologa imprenditrice e capiremo anche il perché. Parleremo di autostima, perfezionismo e autocritica, sia nella vita che anche nelle imprese, insomma nella vita di tutti i giorni e nel nostro lavoro. Tutto questo dopo la sigla. Arianna Masotti, eccola qua, da Udine. Sei venuta qua, da quanto è che sei a Londra? 2019. 2019, insomma è un po' di tempo, è un po' di tempo. Sei venuta qua perché nel Forio Onda mi raccontavi che invece tutti facevano questa esperienza per la Spagna. Tu hai detto, no, io. Londra. Londra. E già qui ti fa capire la personalità, cioè una persona che non segue il greggio e questo mi fa piacere. Tu lavori anche per Dottor London. Esatto. Che salutiamo, poi ci racconterai quando sei presente nella clinica, perché l'argomento di oggi è importante, molto importante. Forse a volte è sottovalutato, ok? Perché si parla di autostima, autocritica soprattutto. Chi di voi è all'ascolto? Se è mai fatto un'autocritica, quanto è importante l'autocritica per esempio? Dipende. Dipende da dove? Allora partiamo da qui. Che cos'è l'autostima e che cos'è poi invece l'autocritica? Beh, pensiamo, autostima è il valore che una persona attribuisce a se stessa, nel complesso, a 360 gradi. Ok. È un concetto fluido, dinamico, perché è dato dalle esperienze che abbiamo nell'infanzia, dall'influenza sociale, dallo status, ma in ultima istanza anche da come ci parliamo allo specchio. Come ci parliamo allo specchio? Sì. Ok, no, questa cosa mi fa riflettere, scusa il gioco dello specchio e riflettere, perché forse dello specchio bisognerebbe passarci più tempo, è questo che vuoi dire? Dico che molto spesso, ad esempio in una città come Londra, noi connettiamo l'autostima al nostro ruolo lavorativo. La prima cosa che ti chiedono è what do you do? Cosa fai? È vero, è vero. Prima del nome addirittura. Prima del nome. Prima del nome. Prima citavi Pirandello. Quante maschere abbiamo? Quanti ruoli abbiamo? Vero. Potrebbe esserci il tuo ruolo come partner, come lavoratore, come figlio, come fratello. Quanti ruoli abbiamo? E perché l'autostima viene collegata principalmente a come appari esteticamente e cosa fai di lavoro? Giusto, giusto. Infatti io nella mia percorso ormai da vecchiotto, non dico gli anni, ma ormai l'ho già detto, lo sanno tutti. Ho incontrato un po' di persone e tra questi due persone mi hanno sempre detto eh ma Phil, tu devi cercare di metterti delle maschere, sorridere sempre, perché questo fa vedere la potenza della tua azienda. Io un po' ci ho riflettuto questa cosa, a me non mi andava il genio. Cioè io invece, se devo ridere o sorridere, lo rido perché è una cosa che mi fa gioia di me. Se in quel momento io voglia, non voglio le maschere, perché poi sai, le maschere le puoi avere anche a strati, poi ti cascono e tu crolli e quindi vai in quella parte della, un'autostima bassa, in un certo senso. Quindi non è che, credo che sia la maschera che ti dà l'autostima. È importantissimo avere una base solida per poi costruire la tua autostima. Per quello, dico sempre ai miei pazienti in seduta, ci sono le esperienze positive o negative che è una persona nell'infanzia, nella giovane vita adulta e poi si sviluppano i core beliefs. I core beliefs è come parli a te stesso allo specchio. Se alla fine della giornata ti dici non sono abbastanza, sono un fallimento, avrei dovuto fare di più, si sviluppa tutto quello che poi va a costituire un'autostima negativa. Non solo, ti costruisci degli imperativi morali, delle regole, tali per cui dici ok, devo comportarmi in una certa maniera, altrimenti non ce la farò, altrimenti le altre persone mi abbandoneranno. Che tra l'altro è un istinto primordiale perché fin dall'antichità se noi stiamo nel gruppo sopravviviamo. Se le persone fanno dei commenti negativi su di noi ci sentiamo soli, specialmente in una città come Londra, ci sentiamo esclusi. Che già ti isola di per sé, no? Allora come si, come lavoriamo, come possiamo lavorare sull'autostivo? ci sono delle tecniche, c'è ogni mattina mi devo mettere davanti allo specchio e dire vai figlio oggi ce la farai, quanto sei bello, non lo so, ti cresceranno i capelli diventerai riceriti, non lo so, ecco, vorrei sapere. quella, ecco, io la reputo un po' una psicologia pop, quella che vediamo sui social media, il concetto delle tre cose positive. Io, siamo in radio, facciamo un paragone ad esempio col volume. Col volume? Immagina l'ultima volta che sei stato a un concerto o anche hai visto un DJ. Ok. Ok. Facciamo così per l'autostima. Da un lato devi regolare quella che prima hai definito l'autocritica. un arbitro che ti dà un cartellino rosso anche quando non te lo meriti, un carabiniere che ti dà la multa anche se avevi lasciato la macchina cinque minuti in sosta. Dall'altro c'è la voce compassionevole, la voce che ti dice ho fatto una settimana di lavoro veramente impegnativa, mi concedo una pizza fuori con gli amici. Ok. Quindi lì una strategia è abbassare quella voce autocritica il volume e alzare quella della voce compassionevole. Mi piace questa... La canzone poi è diversa. La musica è diversa e magari anche il ritmo è diverso e tu inizi a vivere in una situazione in un mindset diverso. Molto spesso però ci troviamo a... Vedi il mondo dei social, no? Tu fai un post c'è il pollice su, il pollice su... Quanto questo incide sulla nostra autostima? Perché io ho letto che per esempio già i social hanno un po' scalfito alcune persone sull'autostima. Cioè io faccio un post supponiamo questo qua che poi andrà a un demand e lo vedranno e supponiamo che viene io spero di no anzi non sarà così però supponiamo che c'è una una marea di messaggi critici ok? È chiaro che dal mio punto di vista lo guardo e un po' ci rimango male quindi dico boh e mi incomincio a fare un loop cosa ho sbagliato e vado non dico in depressione però insomma mi turba questa cosa ecco i social quanto incidono sulla autostima e come si fa a regolare questo volume come detto te del dj personale? Ok allora nella breve frase che hai detto ho già diminuato due meccanismi di pensiero addirittura mamma attenzione perché giustamente Arianna è una psicologa quindi qui ogni volta qualche viene la psicologa a me mi mi fanno queste sedute e mi psicologizzano proprio ok va bene nel momento in cui hai detto nel momento in cui posteremo arriveremo riceveremo un sacco di commenti negativi tu in quel momento sei una protenzio futura futuro worrying sintomi ansiosi ok chissà cosa diranno di noi benvengano i commenti negativi comunque ah sì sì anzi anzi ora non esagerate però se volete mettere i commenti negativi noi poi ci laugioniamo sopra vi psicologizziamo tutti insomma se una volta che è uscito il post ti focalizzi su questi commenti ci rumini sopra quindi secondo meccanismo ruminazione perché ho detto quella cosa non avrei dovuto dirlo perché l'ho fatto rumination e questo può portare poi a sintomi depressivi se l'intensità la durata è eccessiva pertanto qual era come come no voglio capire se i social quanto influiscono appunto nell'autostima e quanto bisogna dargli un peso perché purtroppo io penso ai giovani che sono ore e ore sui social e alla fine vengono un po' uso una parolaccia manipolate anche dai commenti negativi cioè si riescono a influenzare e magari non dovrebbe essere così quindi cade l'autostima ad esempio sulla mia pagina dottoressa Riana Masotti che ho su Instagram promuovo una visione positiva e comunque accogliente della propria mente e del proprio corpo nel senso che molto spesso vediamo queste modelle dai fisici irraggiungibili vediamo l'imprenditore che si sveglia alle 5 del mattino e dici cavolo ma vorrei essere lui perché non sono così ma in realtà quanto di quello che vediamo è vero? e quanto è costruito appunto quanto è costruito giusto ad esempio io adesso come professionista non riesco a starci molto dietro ho tutto un team che lavora per me perché devo vedere i miei pazienti ogni giorno uno a uno quelle persone che stanno costantemente sui social quanto poi effettivamente fanno nella vita reale? io personalmente non ho tempo è giusto questa è una domanda anche io mi li chiedi a volte ma se tu sei contemporaneamente lì ah questo vediamo la pagina questa è la pagina di Instagram era molto forte su Instagram seguitela perché potete fare anche domande trovatela poi parleremo anche che lei c'è questo my hand body insomma ora parleremo di tante cose però ti dicevo ecco io mi chiedo sempre no a parte se io dovessi ci sono tantissimi video tantissimi anche bravissimi fatti però se io devo perdere tempo a guardare tutti i video che vengono fatti non vivo più uno secondo io mi sono sempre chiesto ma come fanno loro a stare sempre lì e tu quando dalla loro vita com'è per me la magia si crea in seduta uno a uno e adesso appunto vorrei avere una visione più grande e aiutare più persone ma ho tutto un team dietro che mi aiuta altrimenti non riuscirei a starci dietro anche perché durante la pandemia tantissime persone si sono focalizzate sui social e questo ha avuto un effetto veramente negativo sulla loro stima perché si instaura il fenomeno della comparison gli altri sono meglio di me quindi tendo a accentuare le caratteristiche positive degli altri e tendo a accentuare le mie caratteristiche negative quindi si crea un gap ancora più grande e lì vi ha riregolato quel volume che dicevi esatto ok mi piace questo paragone quindi ricordatevi regolatevi cioè andate sempre in comparazione alla fine perché cioè altrimenti rischiate di di considerarvi meno di quello che siete in realtà invece secondo me ogni persona ha un suo valore anche nelle debolezze anche nelle anche nelle anche in un'attocritica ci sta a volte no? quando bisogna usare per esempio l'autocritica? allora diciamo che l'autocritica è un'arma a doppio taglio nel senso che da un lato è quel motore che ti spinge a fare di più è quel drive quella passione che ti dice ok è un sabato tutti i miei amici sono fuori ma io sto lavorando a mio progetto io sto lavorando a costruire la mia compagnia sto lavorando nel mio progetto riconosco e riconosco questo soggetto che di sabato lavora quando gli altri sono a divertirsi anche la notte ma dall'altro lato quando è troppo ti porta all'isolazione all'isolamento penso in inglese la mia insegnante del classico in questo momento se mi sta ascoltando addio l'italiano ha perso l'italiano te hai detto dal 2019 però devo dire che si parla sempre a volte se sei in inglese poi lei fa un lavoro quindi perdoniamola professoressa se è all'ascolto o l'ascolterà dopo perdoniamo questa ci mancherebbe quando è troppo è troppo nel senso che bisogna concedersi dei momenti per se stessi io ero così lavoravo costantemente perché avevo questo dry questa passione questa voglia di farcela e ho iniziato a fare una cosa ho iniziato a crearmi dei meeting con me stessa su google meet I schedule a meeting with myself una riunione una riunione con te stessa? sì lunch tempo per mangiare run tempo per andare a fare una corsa sport importantissimo importantissimo lo sport allocarsi del tempo durante la giornata per se stessi importantissimo e questo credo che sia uno dei consigli base poi non so se qualcuno riesce a farlo io al momento non ci riesco però non è detto non è detto a fine seduta per notti un appuntamento a fine seduta mi sta psicanalizzando io lo so senti invece nelle scuole noi facciamo sempre una domanda anche per i bambini perché so che la storia è ascoltata anche dalle madri dalle mamme e babbi quindi cerchiamo di fare nelle scuole a volte c'è il bullismo c'è sempre stato non è che è nato con i social mi ricordo anche ai miei tempi che c'era appunto nelle scuole quello che ti picchiava di più ecco si può lavorare sui bambini per l'autostima per cercare di creare poi una certa sicurezza anche interna quando il bambino diventa più grande i bambini sono i leader del domani è molto importante è molto importante che soprattutto nell'infanzia ci sia una buona base per un'autostima sicura mettiamo ad esempio il nostro caso siamo due expat veniamo dall'Italia ci siamo trasferiti a Londra ecco quando ti trasferisci a Londra tu mi mi hai detto in fuori onda che già da 10 11 anni volevi trasferirti eccetera forse un po' precoce però senti come se ti viene strappato un arto o anzi una gamba e ti dicono cammina corri come faccio a esprimere me stesso in inglese me stesso me stessa in inglese se la mia lingua di base è l'italiano no ecco una cosa che mi ha aiutato è avere un'autostima solida nell'infanzia io mi ricordo che mia madre mio padre mi dicevano cosa vuoi fare da grande la giocatrice di basket professionista tutt'altro da quello che faccio adesso e loro mi hanno detto ce la farai mi portavano gli allenamenti quindi tu mi stai dicendo che i genitori hanno un ruolo fondamentale hanno un ruolo fondamentale beh è chiaro che se il bambino porta magari vanno alla scuola un giovane vanno alla scuola torna a casa e viene mazzato anche dai genitori e non capiscono il perché il bambino vanno alla scuola diventa un grosso problema sì e su questo voglio appunto fermarmi perché è molto importante la reazione dei genitori quando il bambino torna a casa con il risultato scolastico prima abbiamo parlato di comparison di paragonarsi con gli altri se la madre vedo ad esempio un voto sette sette e dice bravo sette la prossima volta nove nove se la madre ti chiede ah bene sette ma gli altri cosa hanno preso e il bambino inizia a dire certo ma gli altri hanno preso nove e lì inizia a instaurarsi il seme del dubbio allora non sono bravo abbastanza e quello ti rimane poi per tutta la vita colloquio di lavoro e gli altri candidati magari una posizione per G.P. Morgan Goldman Sachs tantissimi candidati per una sola posizione cavoli sì ma gli altri candidati magari sono più bravi magari hanno un MBA come faccio io quindi tu stai dicendo che il ruolo del genitore ovviamente è fondamentale e deve accettare qualsiasi ora si parlava del voto però qualsiasi risultato di un figlio allora ogni cosa in equilibrio nel senso che ci vuole anche spronare il bambino a fare del suo meglio quindi vuol dire non essere eccessivamente motivarlo motivarlo importante anche non troppo però perché se si crea il link ogni volta che prendi un bel voto ti porto al cinema o ti regalo una torta il bambino inizia a associare ok devo essere il migliore devo essere il migliore perché è il modo in cui riesco a ottenere l'amore dei miei genitori certo e da lì poi arriviamo al perfezionismo ok come nel senso che ogni volta che porterò a casa un 9 mi verrà regalata una torta verrò portato al cinema se non prendo il 9 i miei genitori non mi faranno più bene non mi considereranno più abbastanza come persona introietto quella voce e me la porto avanti per tutta la vita e tu fai anche training a genitori su questo lavoro molto io lavoro principalmente con adulti principalmente con imprenditori ma anche tanti genitori giusto infatti tu fai anche per le aziende si si può dire che sei una coach psicologa per gli imprenditori non so ti voglio ricreare un ruolo che forse cioè esiste ma non so se come definirlo il nome giusto però è così insomma allora al di là c'è un imprenditore dice non so voglio portare avanti l'azienda voglio creare di più voglio fare più soldi voglio fare una presentazione che tutti devono pendere le mie labbra cioè tu insegni questo a unire i puntini a unire i puntini che non è facile mettiamo insieme tutti i pezzi del puzzle che abbiamo davanti troviamo i pezzi che si incastrano l'un l'altro troviamo quelli che non si incastrano troviamo i gaps troviamo dove c'è la necessità del tuo intervento nel mercato uniamo i puntini abbiamo una visione olistica globale molto spesso se tu vivi quell'esperienza ad esempio l'esperienza che hai con me vis a vis hai questa prospettiva immagina un elicottero zoom out l'elicottero quando si staglia in cielo ha una prospettiva più ampia la collina le coste questo uscire dalla situazione che stai vivendo guardarla da fuori quasi un terzo occhio e analizzare mettere assieme i pezzi connettere i puntini vedere dove si incastrano e avere una visione olistica e globale non esistono gli imprenditori diciamo forti in tutti i sensi hanno sempre le loro fragilità nessuno da Steve Jobs anzi da prima da Olivetti da tanti imprenditori no io mi piace andare a leggere tante storie tante per esempio come Walt Disney che ha una storia incredibile non so se lo sapete ma ha avuto veramente una storia travagliata prima di diventare Walt Disney eppure lui ce l'ha fatta nel senso hanno chiuso porte in faccia non credevano nella creatività addirittura dicevano tu non sei creativo pensa Charlie Chaplin dicevano che non era espressivo quindi però tutti sono diventati grandi però i grandi poi hanno queste fragilità quindi anche una fragilità può essere un punto di forza sì io dico sempre se non hai avuto il tuo grande fallimento difficile è che tu abbia il tuo primo successo è quando cadi che ti rialzi e crei qualcosa di importante e qui ci vuole tutte e due sia l'autostima che un po' l'autocritica perché a volte una sana autocritica è quella che ti fa un attimo anche fermare nel percorso e dire ok ho sbagliato faccio questo cerco di rimediare e vado avanti vado avanti senti tu fai una cosa molto interessante mi dicevi nel fuori onda forse per la prima volta qui a Londra cioè cos'è che unisci la palestra il corpo la mente sì allora il mio motto è mind and body nel senso che per me una persona deve prendersi cura di sé inside and out quindi una visione a 360 gradi io adesso sono in out psychologist per una delle palestre più prestigiose a Londra che si chiama Robots in centro a Mayfair e quando parlavo con il CEO mio grande amico che saluto Greg ciao Greg e gli ho detto sai che la maggior parte delle persone che vengono in palestra in realtà vogliono anche parlare con una persona perché immagina prima parlavamo dei capi d'azienda tutto il giorno seduti magari hanno un meeting un lunch meeting un dinner meeting ma tutto il giorno seduti davanti al laptop accumulano una serie di stress anxiety burnout perché devono chiudere il deal hanno bisogno di andare in palestra ma hanno anche bisogno di parlarne con qualcuno che li faccia stare meglio ma anche che le aiuti appunto avere una visione olistica in un ambiente diverso da quello che è l'azienda sì oppure saluto tutto il giorno non ho neanche tempo di mangiare perché sto rispondendo alle mail e sto mangiando il sandwich di preta manger anche lì hanno bisogno di parlare del rapporto col cibo del rapporto col proprio corpo non mi vedo più bene non mi vedo più quando ero giovane quindi anxiety stress eating disorders o eating pattern body image tutte queste cose e lui mi ha detto cavoli ma facciamo una cosa nuova creiamo un ruolo da psicologa per la palestra e da lì abbiamo unito mind and body e quindi tu ti sei e qui nasce diciamo la parte imprenditrice di Arianna perché da qui si diventa imprenditrice quindi anche tu puoi diventare anzi sei già un imprenditore ma sta succedendo perché ci accingerò anche la nutrizione vedi quindi come si mette qui la situazione tu ti fai la tua autopsicologia la tua auto diciamo analisi quotidiana importantissimo io ho una ho una terapeuta ho una supervisor e ho un executive coach e anche un personal trainer quindi mamma mia cioè sei mamma mia come le le più grandi star cioè ah però ma uno psicologo deve vedere uno psicologo e un supervisore per garantire un servizio ottimale altrimenti se tu in primis non funzioni bene come individuo puoi pretendere di aiutare gli altri certo certo tu quando ci sei da dottore London se qualcuno all'ascolto ti vuol venire a trovare poi lasciamo tutti gli indirizzi la dovete seguire su Instagram anche un sito si chiama ariannapsicologaonline.com se la regia ci rimanda anche la pagina Instagram quando ti possiamo o che ha bisogno magari venite a trovare a dottore London cioè un giorno il martedì mattina pomeriggio 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 mettiamo anche l'ora non lo so vediamo mettiamo l'ora vabbè questa è la tua pagina da quant'è che è aperta questa pagina? da un annetto perché prima ho lavorato appunto per cliniche pubbliche e private sia in Italia che Londra e da lì poi ho avuto una richiesta talmente grande di pazienti che ho iniziato ho creato la mia hai fatto bene allora chi è chi ha possibilità e voglia di incontrare la dottoressa Arianna mazzotti lo può fare la dottor London il martedì e magari ecco pensateci autostima specchio perfezionismo sono tutte cose che credo che siano importanti nella vita perché poi sono quelle che come curiamo il cuore come curiamo un diabete bisogna curare anche questo aspetto ma tutto questo sarebbe stato possibile in Italia secondo te cioè sto parlando della Arianna imprenditrice venire qua non ti sei pentita no assolutamente anzi è come quando mi dossi un paio di scarpe io andassi un paio di scarpe a Londra all'inizio all'inizio mi sono fermata per allacciarle in Oxford Circus mi hanno travolto perché always on the go sempre correre non puoi fermarti eh certo se ti ferma qui è perduto dico a volte se uno si ferma è meglio nel momento in cui sono tornata in Italia non mi calzavano più le altre è bello anche io lo dico a volte l'Italia a volte mi è stata uno stivale troppo stretto nel senso che a volte non riuscivo più quindi però è la terra degli affetti della della famiglia quanto viene ragione Friuli Venezia Giulia è una bellissima regione dai non al mare e le montagne appunto ci avete ci avete tutto senti in conclusione un ultimo consiglio dalle nostre ascoltatori per quanto riguarda autostima autocritica migliorare il proprio mindset quotidiano perfection is the enemy of action la perfezione è il nemico dell'azione nel senso che se avete una visione un obiettivo un goal just do it badly iniziate a farlo cioè non stiamo non stiamo lì a curare il dettaglio spezzare il capello in quanto facciamo creiamo poi magari aggiustiamo strada facendo strada facendo l'importante è far uscire il nostro reso la nostra creatività anche con qualche imperfezione esatto e la cosa più importante è avere passione nelle cose non essere motivati da obiettivi esterni voglio essere con gli altri voglio essere un imprenditore perché adesso è la moda del 2024 perché farò un sacco di soldi un giorno la mia terapeuta mi ha detto saremo i più bravi a curare le ferite che noi stessi abbiamo avuto io mi ricordo nel 2019 che sapevo tre parole d'inglese e allora ho iniziato a lavorare in Inghilterra ho iniziato a vivere con conculini inglesi ho iniziato a uscire con persone inglesi e un giorno ho detto ascolterò la BBC la mattina e capirò cosa dicono e così è stato e tu pensa la sera ascolta London One Radio capisci capito com'è la situazione la mattina inizia con la BBC e la sera London One Radio Mariana grazie di essere stata con noi ovviamente questi essendo tu la prima volta che sei venuta qua su questo tema come sempre ce ne saranno altri più approfonditi e saranno i nostri attenti ascoltatori poi a fornirci anche qualche diciamo domanda più nello specifico come è già successo in altre puntate del medico risponde grazie di essere stati con noi la puntata la potete condividere come si è detto mettete anche i vostri commenti negativi se volete non c'è problema e poi magari perché se allora se il commento è negativo può essere costruttivo giusto? cioè se tu vuoi leggere un commento però quella persona te lo dà con un senso critico non è d'accordo non è d'accordo non no io invece dico vabbè se è un insulto allora no però se è un commento costruttivo che mi fa migliorare io lo prendo come positivo ok? secondo me ok grazie grazie di essere stata con noi alla fine della seduta prenota pure sul sito ah sì 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 un appuntamento che io lo faccio già mi sono sentito psicanalizzare sicuramente da questa puntata comunque è molto importante l'autostima nella nostra vita è anche un pizzico di come un po' di sale sopra un pizzico un po' di pepe anche di autocritica però insomma cerchiamo di fare di essere più davanti allo specchio allo specchio facciamoci domande che è questo che è la cosa più importante e troviamo magari delle risposte grazie di essere stati con noi ricordiamo sempre il medico risponde ogni giovedì prevenire è meglio che curare ciao